Incassiamo il burro così, chiudiamo a libro e appiattiamo. Sempre la parte aperta è la parte che viene tirata, la parte chiusa è quella che non si deve toccare. Frizioniamo e giriamo. Bene, abbiamo appena tirato fuori dal forno il nostro salato, bellissimo, molto 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 bello. Spero ti sia piaciuta la lezione, alla prossima, ciao!